Qualche tempo fa una mia amica su whatsapp scrive in un gruppo comune e scrive ciao a tutti, asterisco, no che cioè è giusto è inclusivo è normale è bello cioè stasera siamo tant asterisco io ci ho pensato è figo perché poi è molto inclusivo pensato sarebbe bello portarlo nel parlato nella realtà ci ho provato cioè adesso tipo adesso sarebbe bello dire ciao a tutti che cioè devi praticamente la schwa questa nuova vocale devi un po devi usare il labbro se non si capisce se dici maschio femmina sei bravo sei molto inclusivo questa sera siete questa sera siete tantissimo bisogna fare un gioco di labbro proprio sono contentissima su di me non vale perché sono tantissimo però e funziona sul parlato funziona e rende il tutto molto inclusivo ci ho pensato che c'è questa roba dell'inclusività perché le prove sono importanti altrimenti si crea imbarazzo e l'imbarazzo è una cosa nel quale il comico sguazza però l'imbarazzo è importante gestirlo l'imbarazzo ci rende persone sane non sociopatiche se uno balbetta diventa rosso perché qualcosa lo imbarazzo vuol dire che una persona che sta stare nella società ed è una cosa giusta e santa però a volte l'imbarazzo può mettere in difficoltà se poi sei un maschio bianco cisgender sopra i 40 ti metti a cominci a sentirti un po fuori luogo un po un po disadattato c'è questa roba dell'imbarazzo io per esempio da quarantenne imbarazzo imbarazzo è una parola che viene dallo spagnolo settecentesco imbarazzo significa ingombro materiale anche per esempio una donna incinta si dice imbaratada perché ha proprio questo ingombro ci pensavo l'altro giorno che ho cenato al cinese ma avevo pranzato al messicano c'è stato uno scontro di civiltà io ve lo dico lo stomaco non è inclusivo lo stomaco è razzista c'è stato questo scontro di civiltà tra l'involtino primavera e le fagitas che è un po come mettere nella stessa stanza brusli e spidi gonzales finisce a puttane non non se ne viene fuori e c'era no ma c'era questa roba c'era l'involtino primavera che puntava all'intestino posto da cui probabilmente arrivava con tutto rispetto per il cibo cinese ma forse ho scelto il ristorante sbagliato mentre le fagitas dal canto loro si riproponevano cercando di superare illegalmente il confine come ogni messicano che si rispetti questa roba per me è stata quasi ingestibile non sapevo come controllarla perché lo stomaco ripeto è razzista e questo imbarazzo è fortissimo è l'imbarazzo è una roba che noi proprio ci portiamo dietro è dell'imbarazzo davvero del maschio cisgender quarantenne che non ce la fa perché è rimasto indietro perché è fuori luogo perché perché noi tra l'altro perché sono andato a mangiare al cinese al messicano noi sopra i 40 non dovremmo più mangiare così dobbiamo stare attenti a quello che mangiamo perché una parte di me vorrebbe essere giovane e poi dico mangio come a 20 anni ma non posso più mangiare come a 20 anni non lo posso fare perché non ho più 20 anni sono in quarantenne ma noi vogliamo rimanere giovani c'è questa idea di rimanere giovani ma in realtà io sono un maschio anni 80 il maschio già è bestia il maschio anni 80 è ancora peggio cioè io di nuovo l'altro giorno lo so è uno stereotipo ma di nuovo io l'altro giorno sono uscito dal bagno sono andato dalla mia compagna e gli ho detto ho fatto una cagata perché ci sentiamo in diritto di dover raccontare alla nostra compagna che abbiamo appena ma poi anche dettagliandola volendogli raccontare il contenuto la forma c'è proprio anche un po' orgogliosi che io esco e dico devi vedere la cagata che ho fatto cioè la invito anche a vederla e dentro di me penso ma perché facciamo questa roba che davvero cioè e lo dico come se stessi dicendo ho appena vinto il nober per la fisica e invece sto dicendo devi vedere la cagata che ho fatto perché comunque noi maschi conateni stiamo diventando un po' imbarazzati più forti di noi c'è questa necessità di restare giovani ma dentro siamo delle bestie per l'anniversario della mia compagna siamo andati qualche estate fa in perù vacanza bellissima tre settimane in perù alla fine della vacanza una signora mi chiede ma stefano cos'è che ti ha colpito di più maciupicciu questi monumenti che raccontano l'umanità meravigliosi oppure le rainbow mountains queste sfumature di colori a 5.000 metri dove non si riesce neanche a respirare io ci ho pensato e poi col cuore le ho risposto ma io le giornate nel deserto sulla dumbaghi che è vero cioè le ho risposto proprio col cuore cioè è stato tutto bellissimo per me la giornata più divertente è stata quella le dumbaghi nel deserto nella mia testa c'era la canzoncina di bud spencer altrimenti ci arrabbiamo mentre saltellavo ed ero felicissimo come un quarantenne pirla grazie 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 grazie